E poi dopo con Moci abbiamo fatto una chiacchierata, così un saluto, ma niente di particolare. Come Pinzolo mi ricordo di un ritiro di 35 anni fa, allora sono venuto così a fare un giro, ma niente di importante, di ufficiale. Non c'è nulla in ballo sul mercato francese, la Roma cerca questo esterno a... No, no, non abbiamo ancora parlato, eventualmente magari più tardi avrò l'occasione, ma sono venuto solo per vedere l'allenamento e per salutare adesso. Ma no, ma non sei di squilli, eh? No, se li credo che sia... non le trasferite, non lo vogliono dare, quindi è un po' che rimarrà. Ma che già è un parametro zero, vedremo. Oh no, mi sono buona mezza, scusami. No, adesso no. Non è stato mai chiesto così adesso? No, non è stato un po' interessare, come interessano tanti giocatori, però dopo il mercato si deciderà più avanti, però non c'è una trattativa. Il giocatore è che piace, no? Seria rimane al Nizza, per quanto ne so io, perché non lo vogliono vendere. Non lo so, sono bravi alla Roma, no. Un bravo direttore non hanno bisogno dei miei consigli. Grazie. Come l'ha visto Mucci, come lo reputo? È una persona intanto educata e per bene, non è poco nel calcio di oggi. E quindi sempre sorridente, col quale si parla tranquillamente di calcio. Credo che la storia parli per lui, quindi mi auguro e sono sicuro che farà bene alla Roma. Ciao.